Smartphone e cellulari con segnale telefonico debole o assente e scarsa copertura della rete internet. In Lombardia sono diversi i territori dove la connessione è difficile se non impossibile. Tra le aree più critiche alcune zone nel Comasco e nel Varesotto. In seguito alle numerose segnalazioni di disservizi pervenute da cittadini e amministratori locali per sollecitare la risoluzione delle problematiche legate alla telefonia mobile e alla navigazione online il consigliere regionale Giacomo Cosentino capogruppo di Lombardia ideale Fontana presidente ha presentato una mozione condivisa con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi e il vice presidente Francesca Brianza entrambi della Lega. Il documento spiega Cosentino è finalizzato a dare ancora più forza alla giunta regionale nel confronto con le compagnie telefoniche affinché pongano rimedio quanto prima a questi problemi assicurino la necessaria e adeguata copertura sull'intero territorio lombardo. Tra le aree che non godono di una copertura adeguata l'Alto Varesotto, in provincia di Como le aree boschive di Appiano Gentile, Binago e Beregazzo Configliaro, alcune località nei comuni dell'Alto Lago e altre la quali come l'aglio. La scarsità di segnale in montagna rappresenta un rischio per la sicurezza data la difficoltà a chiamare i soccorsi mentre smart working e servizi online come quelli della pubblica amministrazione restano difficilmente accessibili e utilizzabili. In queste aree queste infrastrutture tecnologiche, concludono Cosentino, Fermi e Brianza, sono altresì fondamentali per prevenire lo spopolamento dei nostri territori più critici.